Francesca Morandi, in un mondo che sicuramente ha scritto le regole al maschile, perché donne la prima metà del cielo? La prima metà del cielo perché se vogliamo pensare al futuro e pensare alle nuove generazioni è fondamentale allora andare a valorizzare il contributo che noi donne possiamo portare all'interno della filiera siderurgica. Da qui il progetto Accioio Femminile, un progetto che riunisce e mette a fattore comune le donne professioniste del nostro mondo con l'intento anche di ascoltare testimonianze esterne che possano in qualche modo migliorare il nostro bagaglio personale e professionale. Abbiamo allora deciso per l'appuntamento di oggi qui a Made in Steel, che sarà tra l'altro il primo appuntamento in cui ci incontriamo tutte insieme dal vivo, di ospitare una giornalista, una donna, mamma, professionista, che ha la capacità di raccontare le zone più crude del mondo con parole così armoniose, così belle e visto che anche la nostra filiera ha bisogno di nuove parole abbiamo chiesto a Francesca quali saranno le parole del futuro e le parole delle donne. Sembra non armonica la mia presenza qui, in realtà è del tutto coerente con quello che accade perché i luoghi della produzione, i luoghi delle materie prime sono storicamente anche i luoghi in cui si generano i conflitti, da cui si generano i grandi flussi migratori e storicamente soprattutto nelle guerre a cui stiamo assistendo in questo periodo storico particolarmente controverso, che non è solo l'invasione russa in Ucraina, è la lotta per la sopravvivenza in corno d'Africa, è la crisi e gli shock climatici. Le prime a soffrire dalla combinazione di tutti questi fattori sono sempre le donne, quindi la mia presenza qui ha senso per portare il punto di vista di chi è attento alla produzione, alla parte economica del mondo, di quello che accade alle prime vittime, cioè alle donne.